Ragazzi siamo tornati nel posto in cui avevamo trovato la bici Siamo qua con un mio fan, serio Si chiama Diego, praticamente l'abbiamo incontrato E gli ho chiesto se voleva venire con noi a fare un video Poi c'è Scogli, il solito Scogli E il bodyguard Comunque adesso siamo pronti per andare dentro là La scorsa volta praticamente vi metto quello che è successo Ma aspetta, sembra abitato però là Cazzo è stato? Aspetta, aspetta, aspetta E' bruttissimo E' vero? Raga c'è la luce accesa Qua c'habita la gente No ragazzi è impossibile E' impossibile Basta Porca troia ragazzi Porca troia Mi ha guardato con una faccia Randonautica funzione ragazzi ancora Per me dove cazzo va? Cazzo va a questo In breve praticamente c'è successo che questa Questa signora in bici ci è venuta addosso praticamente E poi ci ha quasi inseguiti perché noi siamo scappati da qua Verso di là Siamo scappati Poi ci spostiamo verso di là Ok Sembra un po' una cosa Beh ma è spaventoso Porca troia No aspetta, aspetta, aspetta Cazzo è caduto? Spaventoso Vabbè dai Non facciamoci caso No 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 Fidatevi ragazzi che ci saranno Dei rumori incredibili Ma dov'è andare fino a tu un baita là Eh sì Ma è lì è? Eh ma io mi cago sotto Ma non ti pro Ma hai sentito? Questo? No aspetta Andiamo No 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 Ho paura Perfetto andiamo Allora andiamo neanche alla casa là Giuro giuro Basta Andiamo là Fidatevi di raga Fidatevi Ragazzi siamo arrivati Dove Dobbiamo andare Dobbiamo entrare Dobbiamo andare là in fondo Ecco Raga la scorsa volta La scorsa volta Ma sei sicuro che non sia zona privata? C'è scritto? Però noi possiamo andarci perché Perché Cioè io voglio esplorare Scusa Andiamo Perfetto raga La casa là La scorsa volta ci ha piccato Conto la finestra Un sasso credo Perché il rumore era un sasso Cioè il cento per cento un sasso Cosa è successo? Cosa è successo? Io mi sto cagando sotto sinceramente Possiamo tornare indietro No aspetta aspetta Perché il cazzo? Non lo so Esco lì che si è fermato Andiamo lì Raga Raga Cioè Comun No inquadra 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 No inquadra 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 Ah no il fondo è il fondo Alla luce No raga Raga Cioè no aspetta 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 Perché il rumore là Ok raga Qua inquadra con la torcia qui Raga ma Aspetta no 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 Quella che si muove Guarda che si muove No 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 aspetta aspetta Fermi calmi Calmi fermatevi Fermiamoci 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 Perché si è mostrato solo? Ma hai sentito un tocco Come se qualcuno là dentro Non si va a parlare Cioè sembra Come se ci fosse stato qualcuno dentro Lì ha aperto Cioè tipo come un avvertimento Oh capitana Sì sì Ci ha fatto scappare proprio così Ma non si è che piove è perfetto il comune Guarda Pio vigile sì Cioè raga Io non torno più a questi posti Ma perché il poesco da noi succede? Sì infatti Cioè È impossibile ragazzi Ma poi Ma non ti sembra strano? Quella luce là Cazzo l'unica accesa qua Non è più acceso un cazzo Cioè sembra fatto apposta eh Sembra fatto apposta Sembra qualcosa di inquietante Fatto apposta Ma è vero No raga è incredibile No No Raga Raga secondo me Adesso è meglio andare Andiamo raga Basta No comunque è davvero Sei serio? Sei serio? Cazzo l'era Sei serio? Ma ci vedo Ma dietro l'albero dici? No Dietro l'albero dici? No 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 Magari il vento raga Che vento? Ma il vento sì No Non è vento Ah beh no forse è vero Come cazzo fa Ma non ho capito ancora che cosa è stato Il cancello o l'albero? No il cancello È un rumore metallico Dici cancello? Sì però il vento mi sembra tra posto Non che faccia questi rumori Non fatti No è impossibile No ma il vento che fa un rumore del genere Con il cancello Ma raga ma aspettate un attimo Fermi tutti Ma scusa Ma chi è che gli fa questi rumori? Siamo qui Cosa? Siamo qui Siamo qui Dove? No Non è sembra una sagra No non ci credo È quella che mi ha visto la prima volta No 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 È lui Ma che è quel signore? No no andiamo là a vederlo Andiamo là Andiamo là da quel signore Raga ci guarda da 30 anni Pure l'altra volta era là Andiamo da lui Andiamo da lui Andiamo da lui Andiamo da lui Sì è il signore dell'altra volta Andiamo Andiamo Fidati Fidati di me Andiamo sulle gli scolli Andiamo sulle gli scolli Andiamo sulle gli scolli Voi state qua Cioè è incredibile Basta Allora raga non vogliono andare là Quindi io ovviamente non le obbligo Però raga è impossibile Che un signore ci spi così tante volte E se la raga Il signore Non lo so se è il signore della casa So solo che anche l'altra volta ci spiava Ma è impossibile che ci spia Proprio a quest'ora Cioè ma Come fa sapere che sta lì Non c'è nessuna telecamera niente Cioè ma Che qui sta lì Cioè ma Che mia Cheia